La Roma batte l'Udinese con il minimo scarto, porta a casa tre punti importanti che vengono dopo la sconfitta di Verona nel giorno in cui la Roma poi ricorda i tre anni della scomparsa del grande Giorgio Rossi, personaggio indimenticabile, un'autentica colonna della storia della Roma. Una partita in cui la Roma nella prima mezz'ora, se vogliamo, ha costruito la sua vittoria, ha il suo vantaggio grazie al gol di Ebram su una bella azione di Calafiori, ma dove comunque in questa mezz'ora, 35 minuti, è riuscita a tenere quasi costantemente nella sua metà al campo l'Udinese con un pressing notevole, cercando di mettere pressione alla squadra di Gotti. Nel secondo tempo, anche se poi nel primo tempo, l'Udinese ha avuto un paio di opportunità, ma quando cala un po' il ritmo, a quel punto emergono sempre un po' i problemi, i difetti di questa squadra che, tra l'altro, nel momento in cui è andata anche un po' in affanno da un punto di vista fisico, ha rischiato tanto. Nel secondo tempo ha avuto più opportunità l'Udinese di poter pareggiare piuttosto che la Roma di riuscire a incrementare il suo vantaggio e a chiudere la partita. Poi purtroppo nel finale è arrivata l'assurda espulsione di Pellegrini, perché la prima munizione c'era, la seconda veramente, non lo so, l'ha vista soltanto l'arbitro Rapuano, questo Carneade che evidentemente dimostra ancora una volta, come poi ha detto Murigno, lui ha bisogno di tempo per costruire chiaramente la squadra, per modellarla, per far sì che possa comunque andare avanti e che possa vincere qualcosa di bello e di importante. Ha detto giustamente che ha bisogno di tempo anche la proprietà. Ecco, proprio secondo me l'atteggiamento di un Carneade come Rapuano alla prima partita arbitrata della Roma, tra l'altro all'Olimpico dimostra che anche la società ha bisogno di tempo per ritrovare quel rispetto che dovrebbe meritare una società come la Roma, una squadra come la Roma. Adesso Pellegrini sarà squalificato, anche se poi Murigno ha detto che vorrebbe capire se ci sono dei cavilli legali per poterlo impedire, ma per me penso sia soltanto illusione ed è chiaramente un po' un problema, perché è il giocatore in questo momento più importante, più in forma della Roma. Devo dire la sincera verità, io ho temuto durante la partita le ammunizioni di Pellegrini e ammunizioni di Cristante, in previsione naturalmente della partita contro i complessati di domenica prossima. È arrivata poi la seconda ammunizione che, ripeto, secondo me non c'era. Forse lì, nell'ultimo slot fatto poi all'85esimo della partita, quando è entrato Shomurdov, forse magari uno dei due poteva essere sostituito. Io capisco che Murigno non veda in questo momento i centrocampisti che ha a disposizione. Oggi Vigliari era addirittura in tribuna, Diavara era comunque in panchina assieme a Darbò, ma forse dare la possibilità a questi due giocatori ammuniti in un momento in cui continuava a far pressione l'Udinese probabilmente si poteva dare. Ora è chiaro, adesso lo diciamo e lo dico dopo l'espulsione che c'è stata di Pellegrini, ma ripeto, è stato un po' un timore che io ho avuto nel momento in cui ho visto tutti e due i giocatori prendere il cartellino giallo. Però è anche la dimostrazione del fatto che evidentemente Murigno si fida e si fida dei giocatori che rimette sempre in campo sempre gli stessi, facendo anche poche sostituzioni o quantomeno le sostituzioni poi sono sempre le stesse. Comunque è importante aver ottenuto questi tre punti, aver ritrovato anche se vogliamo un po' quella forza e quello spirito, però il calo fisico nella ripresa sicuramente è un po' preoccupato. Comunque adesso pensiamo alla partita di domenica alle 18 contro i complessati. Un abbraccio a tutti quanti voi e sempre sempre Forza Roma! Forza Roma! Forza Roma!